bella ragazzi sono the game la beta perché non non cambia che cavolini di bruxelles non c'è non ho partita vabbè già che non si può vabbè forse perché la devo dai però non lo fa e provare a questo è Chorus experience fast pace space combat across mind bending astral planes in an epic story to overthrow the biggest threats the galaxy has seen you play as Nara the former right hand of the great prophet and commander of otherworldly power amongst the circle who rule over the galaxy with an iron fist after the destruction of Namika prime and crippled by guilt Nara abandons the evil cult worrying everything dear to her when the circle returns there is nowhere left to hide it is time to face the demons of the past but you won't be able to do this alone every pilot needs a ship I will fight beside you Forsaken is a sentient ship and Nara's oldest ally the two share a deep bond and together we're an unstoppable force now Nara must reclaim her lost powers the one was forsaken and defeat the evil tyranny of the circle before the galaxy is lost forever with every battle your power will grow unifying you both as the ultimate force in the galaxy non è male è fuoco mira ok sterzo vai ok 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 this is civilian vessel Salo broadcasting on all emergency frequency cleansing doctrine our engines are down somebody help us hold on Salo evade 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 please please our families forza target ahead engaged engaged directed directed their reactor is unstable too late fuck no life signs detected the circle is hailing us let them through venerated elder we are honored by your presence all embrace the great profit be in chorus be in hell hell e quindi adesso attacchiamo lui giusto giusto evade just before we get here evade just before we get here almost down ma non posso definire le loro posizioni exacti posso sentire e attraverso le loro forze le loro energie echo fear ash despair ok 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 devo sparargli ok ok questa demo è fatta apposta per chi come me non era molto molto propenso a comprarlo da subito non 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 La sua escolta, evitare o rimanere e morire. Nara, fuori. La sua escolta, evitare la sua escolta, evitare la sua escolta. 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 evitare la sua escolta, evitare la sua escolta. La sua escolta, evitare la sua escolta. E tu pensi che il cerchio dovrà solo lasciarli fuori? Asso! Il pezzo della cerchia? Gattering Ah Ma cos'è che mi aveva detto di andare di qui? Di entrare dentro? Sei morta Non è proprio male come gioco, vi devo dire la verità Bisogna capirlo un po' Rienforzamenti No, quello che non ho capito è entrare... forse non devo entrare in quella ma devo entrare nell'altra Rienforzamenti cazzo porca loca beh beh a parte che difficoltà media già cominciamo a fare una demo che se non puoi selezionare il livello di difficoltà diventa frustrante che magari avendo il livello di difficoltà basso non è così va bene però non è così che funziona sto merda che cazzo non funziona così e cos'era quella palla verde non si spiega niente sto gioco caricamento contenuti fortuna veloce che è ps5 ok abbiamo capito si l'abbiamo capito allora sai graficamente che come gioco non è niente male no allora il discorso qua non vale ok 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 cazzo è che sparo sto sto scemo nito porca ma come fai a ammazzare questi qui non lo so come fai a ammazzarli allora questo gioco in un po' di tempo fa era in offerta 10 euro o meno 29 invece di 39 sicuramente lo comprerò ma non di certo queste cifre in un po' di tempo mi recupero forse come viene fatto ok oh che cazzo è sto qui ah in questo caso e questo come cazzo funziona no 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 cazzo 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 che cazzo ne vedo altro quale cazzo 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 Il primo è saluto, ora per il final. allora vi devo dire ragazzi che non è malvagio non è niente male il gameplay è bello potete provarlo anche voi che avete la demo scaricabile per playstation 5 non so se c'è che per questo c'è un porto di corretta o non ho controllato cazzo freno oh è sempre le bugure no all the ship's made it finally we're ready good then burn for the jump gate stay in a tight formation and traverse fire i'll handle anyone getting too close to you and those pirates they'll back us up with shields copy everybody time to move out Cald Force è arrivata. Cap, ridurre l'energia fra i thrusters into our charret grimm. Ma siamo morti, se quei vulture... Sperremmo i loro prima. Pio. 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 È bello tosto come gioco di navi eh. È bello tosto. Dai difendiamo il convog. Sì Che casino Vai uno è andato Ma porca Sei morta Sei morta Sei morta Sempre morta Sempre morta Dai fammi l'ultima Sì 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 Sono venuta! Cult Force è arrivato! Copy, diretti l'energia dal trussi e dal trattamento del nostro. Ma siamo morti se ci sono vulti. Siamo a farlo di loro prima! Oh, è un pozzo. bisogna farlo un po' un po' perchè anche loro massacrano non sono morti stiamo esclati per proseguire Ok, la vita... Quanti cazzo c'è adesso? Sono tutte in scena! E' un gameplay molto bello però è difficile perché neanche squadron dell'arte E' così fatto bene secondo me Star Wars Eh, vabbè, ma da via che? Cioè, che cazzo? E' un po'... come si dice, è un po' tosto, però è anche vero che è medio L'ho saputo vedere... ...e' un po' tosto Half of our convoy has passed the jump gate More vultures incoming Everybody, hold your position! Nara, keep them away Un po' tosto Un po' tosto oft Un po' relaxed Bra appele al multista Un po' che guarda che spalle c'è un'altra mi sembra qua eccolo sta perché? i rifugiati di prima va bene dai ragazzi comunque come demo non è male Kronos the Game non è malvagio Marco Drums Games lo consiglia magari proprio non in versione 40 euro ma io aspetto alla metà del prezzo lo comprerò sicuramente perché è un gioco interessante un gioco con un bel gameplay un po' difficile ma prima bisogna entrare un po' nella nel focus del gioco capirlo bene e secondo bisogna anche magari partire con un livello di difficoltà un po' inferiore a medio perché medio inizia già a essere bello interessante va bene ragazzi dai da Marco Drums Games preview game demo game version è tutto mi raccomando di seguirvi su facebook twitter instagram twitter 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 youtube pinterest discord e anche linktree e wechat ok ma la cosa importantissima è seguirvi su youtube e twitch le live mettere mi piace guardare video sulla playlist il tutorial video platini tutto quello che faccio per voi per me per divertirsi insieme e mi raccomando di mettere un mi piace commentate perché commentate è la cosa fondamentale almeno posso interagire con voi sia nelle live che anche nei video registrati io pian pianino rispondo a tutti abbiate un po' di piacenza sulle risposte ma tutti i giorni vado a controllare e assolutamente portatemi gente sul canale qui siamo meglio per tutti tanto divertimento qui è quasi la una di notte io sono stanchissimo morto di sonno dopo una giornata di horizon ho voluto provare per voi anche cronus lo trovate sullo store in demo se volete provare prima il gioco prima di comprarlo è un bel gioco a 40 euro vale la pena perché è fatto bene ma io probabilmente lo comprerò alla metà e lo posto sul canale così potete vederlo sui canali se non è ciao a tutti ragazzi un abbraccio un saluto da Marco Renz Games mitici mitiche mitico mitichi come dico sempre io mitichi mitichi tutti alla prossima ciao 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 ciao